Rampo all'atto del Granat L'atto avviato Rampo all'atto del Granat Ricarico Arma ausiliare Rampo all'atto dell'anno Ricarico! Richiesto di un attacco orbitale! Richiesta di orbitale! Richiesto di un attacco orbitale! Richiesto di un attacco orbitale! Pianto dei rinforzi! Rapporto al fronte! Ricarico! Ricarico! Buon campione! me ne occupo io ricchiato sentinella avamposti insetti individuati richiesta di attacco orbitale lancio granata mappa missione aggiornata democrazia consegnata che incazzi Lancio granata, rinforzi in arrivo Inviate un eagle Preccia degli insetti Assaggiate la democrazia Chiedo supporto aereo La libertà non dorme mai Chiedo un attacco orbitale Perfetto Inviate un eagle Pronto a liberare Ricarico Richiedo una sentinella Assaggiate la democrazia Perfetto Perfetto Rinforzi A rapporto al fronte Richiedo un attacco orbitale Perfetto 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 Ricarico Ricarico Struttura alveare distrutta Avamposto i seti distrutto Preccia degli insetti Chiedo supporto aereo Attacco in corso Anche la mappa Nord-est 200 metri Perfetto 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 Avanti Avamposto gli insetti Avamposto gli insetti Inviate un eagle Chiedo dei rinforzi Chiedo dei rinforzi È atterrata la democrazia Perfetto Sopporto aereo Richiesta di orbitale Avamposto gli insetti Individuato Ricarico Un lato Luc Scarco Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lancio granato. Richiedo sentinella. Attaciate la democrazia. Richiedo un attacco orbitale. Attaciate la democrazia. 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 Ricarico. Richiesta di attacco orbitale. per la libertà il mio braccio 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 per la libertà per la libertà il mio braccio 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 per la libertà 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 Avamposto insetto individuato, preparate allo sterminio Inchiesta di accorbitare Avamposto termini di distrutto I helldiver non muoiono mai Rinforzi Ricarico Prendete questo Avamposto insetto A presto Breccia degli insetti 20 minuti alla fine della missione A presto Richiesto di attacco orbitale Richiesta di arma ausiliaria 2 minuti e 30 secondi alla fine Acquisito campione raro Campione Ricarico 2 minuti all'arrivo 1 minuti e 30 secondi alla fine E' un'altra cosa E' un'altra cosa E' un'altra cosa Un'altra cosa Un'altra cosa Un'altra cosa Un'altra cosa Dite ciao alla democrazia Ricarico Ricarico Oh Prendete un'altra cosa E' un'altra cosa 20 secondi all'arrivo 20 secondi all'arrivo Qui in Pelican 1, ho la visuale sulla zona di estrazione Per la pace Ricchietta approvata Pronti al decollo Pronto al liberato Estrazione completa, Pelican 1 inizia la risalita La democrazia prevale ancora Pronto al liberato 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 Pronto al liberato